L'emozione della prima volta rotta dagli applausi dei giovani e dei tanti candidati che hanno partecipato alla presentazione ufficiale della coalizione che cercherà di strappare il primato al centro-sinistra, Trigianese. A scendere in pista è il 47enne, un commercialista, Antonio Donatelli, che si dice convinto di aver vinto la prima sfida, quella cioè di aver superato il tradizionale steccato dei partiti e aver aggregato una coalizione trasversale, lontano, come egli più volte afferma, dal condizionamento politico di organismi sovracomunali e sovrarregionali. L'intento è quello di guidare la città per i prossimi cinque anni sulla scorta di un programma costruito mattone dopo mattone nei cantieri del programma e nel tour organizzato nei vari quartieri della città. Un programma che ha il dono della sintesi e che mette a fuoco alcuni dei problemi nevralgici di una comunità che sfiora le 30.000 anime. Riflettori puntati sui temi della cultura e della riorganizzazione di un settore nel quale i contributi a pioggia riducono la qualità della programmazione. Poi ancora una nuova idea di biblioteca digitale e una complessiva valorizzazione del centro storico per lo svolgimento di attività sociali ed economiche. Il motore propulsore parte proprio dal borgo antico per estendersi a maglie più larghe sulle altre zone della città, dove è necessario ripensare tutto, dalla mobilità sostenibile alla viabilità, dall'efficientamento energetico della pubblica illuminazione con lampade a LED alla sicurezza dei cittadini. Con un sistema più articolato di telecamere e la presenza di vigili urbani che a Trigiano sono come le mosche bianche.